Ho avuto un'ottima accoglienza da quando sono arrivato lo scorso weekend, i ragazzi molto giovani come me, molto amichevoli e anche lo staff è stato molto accogliente, quindi diciamo che l'adattamento sta andando molto molto bene. Com'è andata questa trattativa dal Manchester per arrivare qui? Era già una tua scelta quella di lasciare l'Inghilterra come si è inserito il capo e ti chiedo se c'è anche qualche altra società? La mia priorità era quella di cominciare a giocare con i grandi e mettermi in gioco, è successo tutto molto velocemente all'inizio del mercato, ma non ci ho pensato su due volte, mi sembrava l'opzione migliore per me. Scarpi che gioca con la difesa a tre, ti chiedo un po' di raccontarci le tue caratteristiche, come ti puoi inserire in questo assetto? Sì, negli ultimi anni ho giocato prevalentemente a quattro, però nel mio background quando giocavo a Cesena abbiamo usato spesso la difesa a tre, mi considero un difensore aggressivo a cui piace leggere il gioco e che fa anche ripartire l'azione, quindi spero di portare energia alla difesa e soprattutto buoni risultati. Ti chiedo un po' i ricordi più belli di questa tua esperienza inglese, insomma, Mourinho, la Boccia in prima squadra, Ibrahimovic. Sì, sono state piano piano, ci sono state diverse soddisfazioni allenarsi con gli atleti top class, Mourinho, Ibra, Paul, Pogba, sono stati tutti piccoli sogni che si stavano realizzando piano piano e da cui ho imparato molto e comunque ti fanno capire il livello di professionismo che ci vuole per stare in questo mondo e quindi mi sono portato indietro un bel sacco di esperienze.